250 mila euro per le microimprese, questo accordo oggi tra Fondo Artigianato e Regione Abruzzo, Presidente, è un accordo di grande significato? Sì, lo è dal punto di vista economico sicuramente perché sono risorse che poi hanno un effetto moltiplicatore, sono 250 mila euro destinati a formazione, non per gli investimenti fisici e quindi in quanto tale, in quanto investimento che poggia la propria essenza sulle professionalità dei lavoratori ma anche degli imprenditori, è qualcosa che riuscirà a fungere da volano per uno sviluppo successivo dell'economia nelle microimprese, nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese di questa Regione. Ritengo che lo sforzo fatto dalla Regione Abruzzo sia uno sforzo molto importante, sia assolutamente in linea con quelle che sono le nuove politiche che dovrebbero essere attivate, ovvero di connubio, di intersezione, di collaborazione tra un'istituzione, in questo caso la Regione, la massima istituzione presente qui in Abruzzo e Fondo Artigianato che è un fondo interprofessionale. Queste risorse serviranno a formare i lavoratori e gli imprenditori essenzialmente, ma non solo, sulla digitalizzazione e sulla quarta rivoluzione industriale. Questi temi sono dei temi di rilievo, sono dei temi che potranno consentire uno sviluppo migliore e più armonioso dell'economia e potranno consentire a questa Regione, come anche ad altre, di poter continuare ad essere agganciate ad una ripresa che ormai sembra esserci, anche se purtroppo a macchia di leopardo. Diciamo che i processi di digitalizzazione e sommariamente tutte quante quelle attività che possono essere ricondotte alla quarta rivoluzione industriale consentono di poter fare delle operazioni che con l'economia tradizionale a volte si riesce un po' meno. Poi questo non vuol dire soltanto, evidentemente, internet, diciamo così, piuttosto che applicazioni che vanno sui telefonini, le app che vanno sui telefonini, ma vuol dire anche riorganizzare i processi all'interno delle imprese, anche se queste sono di piccole dimensioni.